Ciao, sono Alessandro di Tecnista. Oggi vi voglio parlare di una cosa che mi capita molto spesso di dover discutere con i clienti. Mi dicono, non sono capace di regolare la saldatrice perché mi si attacca spesso il filo nell'ugello, nella punta guida filo. Allora, premesso che effettivamente potrebbe esserci un problema di regolazione, però il più delle volte, soprattutto su saldatrici che non sono proprio di marche eccezionali, ma sono piuttosto economiche, la regolazione è piuttosto difficoltosa. Allora, come fare? Io vi direi, cambiate saldatrice, prendete una, ovviamente delle nostre, che hanno una qualità superiore e hanno dei campi di regolazione sicuramente molto più affidabili rispetto alle salatrici economiche, ma non ve lo dirò. Vi dirò invece che esiste questo prodotto che è un antiadesivo a base ceramica, cioè della polvere di ceramica dentro, che può essere spruzzato sulla torcia e forma un film molto secco. Dopo pochissimi secondi si asciuga e forma un film molto secco che può resistere fino a 1500 gradi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è una protezione che riesce a far scorrere il filo senza incollarsi nell'ugello, nella punta guida filo di rame. Questo è molto importante, ma è molto importante sapere, ovviamente, come regolare bene la saldatrice. Può essere spruzzato anche all'interno dell'ugello, dell'ugello gas, quello guida gas, per evitare che si attacchino i pallini di saldatura. Anche in questo caso è molto importante. Vi sconsiglio di utilizzarlo sulla superficie, perché sulla superficie poi se la dovete trattare, zincare, verniciare, eccetera, questa pellicola non è molto idonea. Un'ultima cosa, lo dico per chi avesse un impianto al laser, questo è molto molto valido per usarlo negli impianti di taglio laser. Bisogna spruzzarlo abbastanza abbondantemente. Dopo 15 minuti che si è asciugato, vi permette di non andare ad incollare i residui di taglio. Bene, era una cosa flash, una cosa veloce. Vi invito chiaramente a guardare il nostro sito, perché ci sono tantissimi prodotti idoni al vostro tipo di lavoro. Noi ci rivolgiamo prevalentemente ad obbisti professionisti, così ci piace chiamarli, perché ognuno di noi ha delle qualità nascoste riesce sempre a svilupparle attraverso quello che gli piace fare, in questo caso la saldatura. Noi siamo qui, siamo disponibili come sempre, vedete i numeri in sovraimpressione, abbiamo il sito, ci sono i punti d'incontro attraverso i social, naturalmente noi preferiamo sempre il contatto diretto, venite in negozio oppure telefonateci, ci sono io e c'è mio figlio Tommaso, siamo contentissimi di accoglierli. Grazie e alla prossima, ciao!